Il Pasquato, è il gran gol! Realizzato direttamente sul calcio di funzione, esattamente al sito peggio. Il Pasquato, è il giocatore dai piedi molto, molto buono e questo è un po' perso per strada, il Pasquato, è il giocatore dai terra, il pallone, la parada, Garic ha fatto un bellissimo pallone, il compagno a fare presso di Riverola, sempre fuori Casarini, tanto, Antoine Fonso, il pallone è buono per Avero, il palco è croce, la parada, Tisanu, Pasquato, Pasquato per Coda, Coda la mette giù, Agliardi, Garic, Ciancola, Garic, gli applausi per il gioco Agliardi per la giocata di Riverola, non hanno desca niente, penso che si è soddisfatto l'altro perché il gruppo c'è e sta lavorando bene. Ovviamente c'è il gol intanto, a corta le distanze, Motta, a corta le distanze Motta e finite in queste distanze...